Salve a tutti Blazers, bentornati nella serie di sopravvivenza, ci troviamo sulle montagne nevate della zona giapponese E io ho fatto qualche progresso dalla scorsa puntata come vi avevo promesso Ragazzi, ecco la pagoda Abbiamo fatto, ho fatto tra una puntata e l'altra, 5 strati Ripetendo la stessa cosa che abbiamo fatto insieme nel primo strato Per appunto altre 4 volte Con la differenza che dal terzo anello e poi al quinto che è l'ultimo Ho stretto di praticamente due blocchi la struttura in modo di farla salire per poi convergere in una punta unica Come vedete ragazzi è tutto uguale, l'ultimo strato assomiglia assolutamente al primo Solo che è un po' più ridotto, più schiacciato e non ho fatto nient'altro di diverso, nulla di particolare insomma Ci rimane da fare una cosa importante ragazzi La cupola, il tetto Per quello ho aspettato voi Perché è qualcosa di diverso da tutto il resto e quindi volevo farlo insieme a voi Prima però dovremmo mettere qualche altro dettaglio secondo me a questa struttura Mi avete dato consigli riguardante questa struttura? Sì e come? Mi avete detto anche voi che ricorda la torre di O.O. Che forse non l'ho detto nel video precedente, anzi mi sa di no, però l'ho pensato Ricorda un po' la torre di Pokémon Argento e Pokémon Oro Che in effetti quella torre è ispirata a una pagoda Quindi ha senso che sia praticamente... Che ricordi quella struttura E poi dato che è legata alla cultura orientale mi avete detto insomma sia di fare tipo un drago Una statua di un drago La statua di un mega uccello dorato appunto per ricordare il Pokémon leggendario Però secondo me ci avviciniamo più al concetto di fare un idolo che fare una vera e propria statua Quindi potremmo fare qualcosa sì però secondo me all'interno, all'ultimo piano Se riusciamo a fare una mini statua che abbia un senso suo si potrebbe fare altrimenti direi di evitare di fare cose gigantesche Perché non vorrei rendere il tutto molto pacchiano Quindi prima di procedere però direi di prendere un bel po' di legno Potremmo utilizzare a questo punto il legno da caccia Usiamo questi 40, ci facciamo dei bottoni di legno E li andiamo a posizionare qua e là Allora io non so esattamente dove metterli Però secondo me metterli tipo così Su tutti i vari lati Potrebbe aggiungere quel tocco in più Quel dettaglio che magari adesso manca Eh? Che ne dite? Potrebbe funzionare per me Assolutamente sì Quindi ne serviranno ben più di 40 Temo Iniziamo a farne tipo altri Altri 20 Qualcosa così E andiamo su per posizionarli pian piano Ovviamente cominciamo facendo il giro del primo piano E poi pian piano facciamo anche gli altri Piani Quante volte ho detto piano Wow mi sono tipato preciso in cima GG ok così non perdo tempo a mettere blocchi Questo qui è l'ultimo piano Come vedete è molto stretto Per cui gli spazietti tra diciamo la argilla rossa Sono tutti di uno Anziché alternare spazi di uno a spazi di due E non mi bastano assolutamente Per cui noi dovremmo craftare degli altri Per fortuna ho i blocchi con me E non serve la crafting table Quindi facciamo così al volo Iniziamo a farne 6 Perché non mi ricordo quanti piani mi mancano Per cui 1, 2, 3, 4 In realtà mi avanzano questi Andiamo ancora giù E questo qui non l'avevo ancora fatto Per cui sì Me ne serviranno altri 14 Ok Già così è molto meglio È più dettagliata la torre Perché ha questi appunto dettagli di legno extra Che anche sono diversi rispetto alle staccionate Quindi va benissimo Detto ciò Non ci rimane che prendere Anzi prima di tutto andremo a dormire Perché sta scendendo la notte Poi prenderemo un sacco di legno di quercia oscura Soprattutto dovremo fare degli scalini suppongo Perché ci serviranno molte scale per chiudere il tetto Andremo in cima E faremo appunto il tetto Che sarà il finale di questa torre Poi penseremo magari anche a fare qualcosa per quanto riguarda gli interni Ok ragazzi eccoci sul tetto Devo solamente salire Quindi sfruttiamo un attimino la nostra terra che ci avanza E facciamo così per poi togliere questa Perché non voglio lasciare tracce in giro E saliamo ovviamente all'ultimo piano Mi sembra di avere l'auto jump Esattamente Ogni volta che cambio versione poi me lo rimette Ed è una cosa che odio perché dovrebbe essere off di default Secondo me è un po' fastidioso Una volta che l'hai provato Perché non lo so mi risulta scomodo Non avere il controllo della situazione Comunque a parte queste cose Possiamo iniziare a fare il tetto Partendo dalla stessa base di quelli precedenti Quindi inizieremo a fare un bel contorno Di assi di legno Tutti attorno al piano Ok fatto ciò Prendiamo a questo punto le scale E iniziamo a fare il giro di scale Il tetto ricalcherà esattamente gli stessi tetti Che abbiamo nei due piani inferiori Mentre il primo e il secondo piano Hanno un tetto di uno più largo Però l'ultimo lo facciamo uguale agli altri Perché non lo so mi piace così Quindi lasciamo tre blocchi di spazio E al quarto blocco Mettiamo se non erro cinque scalini Ed esattamente ci avanzano altri tre blocchi di spazio Lo faccio in ogni lato Fatto ciò mettiamo una scala in Non in questo modo Mannaggia le scale girate La mettiamo così Un'altra andrà messa così Poi devo prendere i blocchi e gli slab Ho imparato a fare molto bene questa cosa Perché ovviamente ho rifatto tutti gli angoli di tutti i piani E quindi ho imparato Mettiamo le scale anche in questo modo Slab qui a metà Uno, due, tre E così è fatto l'angolo Adesso lo faccio anche dalle altre parti E ragazzi il tetto è presto fatto Quindi abbiamo fatto questa base Ovviamente ora a differenza di tutti gli altri tetti che abbiamo fatto Faremo una punta Che si stringerà ovviamente nella parte centrale Avremo un centro dispari Fortunatamente ci abbiamo pensato all'inizio Per cui ragazzi dobbiamo semplicemente cominciare Mettendo delle scale Iniziando a stringere Deve essere un tetto abbastanza grande e importante Quindi direi di lasciare solamente Ma neanche un blocco di spazio Abbiamo già queste scale E partiamo subito mettendone altre qui In tutte le direzioni Qua avevamo messo delle assi di legno Per stringere Sembrerebbero un po' inutili All'apparenza Ma in realtà qui c'erano le pareti Quindi bisognava per forza mettere Una base in qualche modo Stavo anche sbagliando Devo solo lasciare Lo spazzetto delle scale Da tutte le parti Stavo facendo Una roba tipo unita Invece deve rimanere lo spazio così Negli angoli Spazio che poi Penserò in un altro momento Tipo questa fila Andava fatta in uno Più all'esterno Cioè Partendo da qui E a questo punto Non ci rimane che usare Dei blocchi di appoggio Negli angoli E continuare con le scale In modo da salire Fino a chiudere la punta Mi sono accorto Che non ho assolutamente Abbastanza scalini Quindi probabilmente Dovrò scendere E farmare altro legno Di quercia oscura Comunque Il concetto è semplice Dobbiamo continuare a salire In questo modo E a unire poi Gli angoli Non con le scale girate Ovviamente Perché ogni volta Sbaglio a posizionarle Ma dobbiamo fare così E poi questa La mettiamo così In modo da fare L'angolo unito In questo modo Ok ragazzi Con molta calma Sto risalendo Sopra la torre Dopo che ho Raccolto I materiali Che ci servivano Quindi sono andato Là in fondo Alla foresta Delle querce oscure Per poter recuperare Un po' di legno E poi ovviamente Ho preso anche Delle ender Per un po' di cibo Già che c'ero Dalla base E quindi nulla ragazzi Dobbiamo continuare A produrre scale Quindi ci mettiamo qui E facciamo altre scale Di querce oscura Ho preso fin troppo legno Penso Perché non ho neanche Spazio di manovra Nell'inventario Però buono così Significa che Non dovrò fare Un terzo carico Di materiali Per questa struttura Lascio un attimo Qui la crafting table Mentre noi Andiamo avanti Utilizzando ancora Gli slab Come appoggio Per poi finire Il tetto E ragazzi Con questo strato Dovremmo Penso aver finito La punta O comunque Mancherà pochissimo Dopodiché dovremmo fare L'antenna Che hanno in cima Queste torri Che sarà qualcosa Di molto alto Che ovviamente Slancerà ancora di più La struttura Penso che Il tetto Sia Sufficientemente alto Però ho paura Che visto dal basso Possa sembrare Un po' Piccolo invece Perché la struttura È anche molto larga Doveva essere Un po' più stretta Rispetto all'altezza Che gli abbiamo dato Il fatto è che Più stretta di così I dettagli Sarebbero stati Davvero pochi E non mi sarebbe piaciuta Quindi vabbè Iniziamo a Completare Questa punta Mettiamo degli Slab d'appoggio Degli scalini Rapidi Così E poi direi Di metterci Un bel blocco Al centro Da questo blocco Ovviamente Inizierà il pennacchio Che realizzeremo Alternando Dei blocchi Di quercia scura E delle staccionate Di acacia Quindi andiamo a prenderci L'acacia Nuovamente Facciamo così Facciamoci un po' Di staccionate 17 direi che Basteranno Avanzeranno E possiamo andare A fare Questa punta Come la facciamo Faremo semplicemente Un alternarsi Di blocchi Di Quercia scura E ovviamente Pezzi Staccionate Di acacia Fino a quando vogliamo noi E direi che stiamo andando parecchio in alto E concluderemo Con Doppia Staccionata E una bella torcia Finale In cima Fatto ciò Possiamo spaccare I blocchi Cosato come appoggio E abbiamo quindi La forma tipica Dell'antenna Che ha Diciamo Questo Questa asta enorme Con Ovviamente Nella realtà Delle specie di anelli Che si susseguono Con degli spazi in mezzo Ma Noi abbiamo i blocchi Quindi abbiamo utilizzato I blocchi Direi di scendere Ora Togliamo questa Crafting table Dormiamo Dopodiché Vedremo il risultato Con calma di giorno Si sono allontanati i mob Sembrerebbe di sì Proviamo a dormire No c'è uno zombie vicino Quindi non posso farlo Dovete morire zombie Dovete morirci tutti Non riuscivo a dormire Perché c'era un mob Nelle vicinanze Stando a quanto mi Usciva scritto in chat E a quanto pare C'era un creeper In un angolino qui Che mi ha fatto saltare in aria La struttura Come sono contento Adesso prima di vederla Cercherò di sistemarla Per fortuna Ho del materiale extra Per fortuna Ragazzi Dove sono spawnato? Tra l'altro Cosa sta succedendo? Ah ero qui dentro Ok Ok una volta sistemato il tutto Mi posso allontanare Uccidere queste maledette bestiacce Che vogliono distruggere La zona più bella del mio mondo E possiamo vedere la pagoda Da lontano Eccola qui ragazzi Il pennacchio visto da qui È davvero figo Perché ricorda quelli veri Non si vede che ci sono i blocchi E non qualcosa di tondo L'unica cosa È che la vorrei vedere Da un po' più in alto Perché come avevo già previsto Dal basso Non si può vedere il tetto C'era un creeper anche lì Mannaggia Si nascondono poi nei fiori Non li vedi Sti dannati creeper Allora proviamo a salire Nel castello Oh guardate da qua Ecco Ci sta Figo Sembra davvero bella Vista da qui Bene Sono contento del risultato Ragazzi Possiamo ora pensare Un attimino Anche agli interni Ok ragazzi Ho illuminato internamente Perché era tutto buio E spawnerebbero i mob Se lasciassi tutto buio Quindi direi che non è il caso Dopo l'ultima esperienza Del creeper Abbiamo ora Un sacco di blocchi Di quercia oscura Quindi direi che le pareti Proveremo a farle così Gli diamo un bel contrasto Tra lo scuro E il bianco E sfruttiamo Quello che abbiamo Quindi facciamo Una cosa Di questo tipo Ovviamente la torre All'interno Non ha necessità Di essere arredata Cioè A noi Cosa ce ne frega A meno che Un giorno Non la useremo Per qualche funzione In particolare Non ha senso Star lì A scomodarci Vorrei solamente Delineare i piani Mettere le pareti Comunque così ci stanno Mi ricorda Il classico contrasto Delle case orientali Dove ci sono solitamente Le pareti In carta di riso E poi appunto Il legno scuro Quindi secondo me Ci sta come accostamento Dopodiché Dovremmo anche fare Il soffitto A tutto ciò Il soffitto Partirà Da qui Quindi ci sarà Tutto un soffitto Che chiuderà Ogni singolo piano E poi direi Che per salire Utilizzeremo Delle scale A pioli Perché altrimenti Diventa un casino Ricavare delle scale Qua dentro Dato che lo spazio Purtroppo Come vedete Manca Quindi facciamo Questa cosa Ed eccoci qui ragazzi Mi è abbassato Giusto giusto Il legno Ho dovuto usare Gli slab Nel finale Per finire il tutto E in questo buco In cui siamo Ci troviamo Nel piano finale Della nostra pagoda Per questo Vi dicevo Che l'idea Di fare una statua Era un attimo Fuori luogo Potremmo fare Una sorta di idolo Ho detto Magari Non nell'ultimo piano Però comunque Lo spazio È quello che è Non è nulla Di Trascendentale E fin qui Ci dobbiamo fare Una ragione Questo è l'interno Comunque come uscito Come vedete Tutto il pavimento Il soffitto E le pareti Sono state finite Con la quercia oscura E ragazzi La nostra pagoda È ufficialmente Completa Quindi ragazzi Anche la nostra pagoda È completa Ora avremo Questa nuova struttura Nella zona giapponese Che troneggia Sulla collina Dall'altra parte Del lago Potremmo sfruttare Quella rupe laggiù Che vi avevo fatto vedere Nella scorsa puntata Per fare qualcos'altro Restando in tema Oppure potremmo Cominciare qualcosa di nuovo Nella prossima puntata In entrambi i casi O se avete anche consigli Per la pagoda Scrivetemeli nei commenti Con l'hashtag ErenCostruisci Detto ciò Io vi saluto Un saluto da ErenBlaze Ciao a tutti Grazie per la visione!